L'aumento delle bollette nell'ultima parte dell'anno ha fatto schizzare di oltre il 30% la spesa del 2021 rispetto al 2019. Per l'anno in corso le prospettive parlano di nuovi vistosi rincari, considerando che i prezzi del primo trimestre mostrano un balzo del 112% rispetto allo stesso periodo del 2019. E' quanto emerge da un'indagine realizzata dal Centro Studi della CNA presso circa 2.500 imprese italiane. La rilevazione mostra che il 95% delle imprese ritiene che il caro bollette avrà un forte impatto sulla propria attività, a fronte invece di un 5% che ritiene che non ci saranno effetti significativi. Per fronteggiare il caro energia il 53% delle imprese si vedrà costretto a ritoccare i listini, in particolare per manifattura e costruzioni, mentre i servizi alla persona indicano che manterranno invariati i prezzi. A Chieti, ad accorgersi dell'aumento delle bollette, sono quelli che ne hanno fatti per primi le spese, e cioè gli artigiani. E' chiaro che se si pensa che già le materie prime, quindi il costo esempio delle farine, sono raddoppiate del 100% per alcune tipologie, e è chiaro che già in questo caso un forno, seppur piccolo, avrà difficoltà a mantenere la propria attività. Da tempo, con un gruppo di acquisto, cerchiamo di partecipare a delle aste per calmirare un po' il costo dell'energia sulle bollette. Quindi queste aste che ci sono periodiche cercano di spuntare tra i vari soggetti che vendono energia a un prezzo migliore per le nostre aziende. Una speranza per i commercianti? C'è da resistere, sperando che lo Stato in qualche maniera intervenga per calmirare il mercato dei prezzi. Noi in questo periodo storico stiamo cercando di mantenere i prezzi che avevamo precedentemente, però è chiaro che se continua così anche i listini dovranno essere aggiornati, perché noi lavoriamo con la corrente, quindi speriamo che il governo riesca a calmirare i prezzi. È innegabile che ci siano delle carenze a livello di clientela, perché comunque la paura che viene installata dai media è tanta, per cui c'è veramente poca affluenza all'interno dei bar, dei locali commerciali, anche per il fatto che il Green Pass è qualcosa che devi esibire sempre, giusto ma comunque difficile da far capire a tutti.